sempre legato all'Adi poi il passaggio successivo se viene selezionato da quanto capito può accedere al compasso d'oro quindi che cos'è il compasso d'oro e un pochino ne abbiamo parlato all'inizio e commentato però a far parte di Adi Allora il compasso d'oro è un premio è il premio forse ancora più noto dell'associazione nel senso che gli addetti a lavori sicuramente conoscono l'Adi, conoscono il compasso d'oro diciamo che gli affezionati o gli appassionati di design probabilmente conoscono il compasso d'oro non necessariamente conoscono l'associazione che conferisce questo premio il premio è nato, è uno dei premi più longevi al mondo di design, non è l'unico però è forse il più ambito perché è il più selettivo è un premio che è stato istituito nel 1954 quando l'Adi ancora non c'era è stato istituito dalla Rinascente quindi da un grande magazzino quando la Rinascente era un pochino diversa da quella che conosciamo noi oggi quindi copriva davvero tutta una serie di settori cioè dai passeggini a dei settori merciologici che adesso non ha più quindi l'imprinting del premio è davvero legato a questa rappresentazione di tutto il mondo del progetto quindi non solo l'abitare ma i diversi prodotti e servizi quindi dalla canna da pesca al giubbotto performante quindi tutto quello che una persona può immaginare ha dietro un progetto dopo che si tratta di capire se è un buon progetto o non è un buon progetto nato nel 1954 su iniziativa di Gioponti perché Gioponti collaborava con la Rinascente poi dopo due anni nel 1956 è nata l'Adi anche se l'atto costitutivo è del 1957 quindi Rinascente e Adiano hanno cominciato a collaborare sul premio per circa un decennio negli anni 60 la Rinascente ha ceduto la gestione e la proprietà anche se vogliamo dire del marchio del premio ad Adi che l'ha portato avanti fino ai giorni nostri con continuità è un premio organizzato per cicli che recentemente si sono assestati sul biennio quindi è un premio che viene conferito ogni due anni sulla base delle selezioni confluite nell'Adi Design Index quindi ogni anno vengono effettuate le selezioni sulla base di candidature spontanee all'Adi Design Index ci sono i due anni di Adi Design Index e sulla base di quei due anni i progetti sono titolati per candidarsi quindi per concorrere al premio con passo d'oro che per regolamento prevede al massimo 20 premi per ciclo 20 premi per ciclo è pochissimo quindi non lo diciamo noi ma tanti lo hanno associato al Nobel al premio Nobel per il design quindi è uno dei premi apicali molto ambito perché quindi vincere un premio con passo d'oro ha a che fare con la reputazione dell'azienda e del progettista che lo vincono perché dietro un progetto naturalmente c'è almeno un progettista almeno un'azienda ma più tutta una serie di professioni che concorrono alla definizione di quel progetto per tradizione il premio è legato all'italianità quindi almeno uno dei due cioè l'azienda o il progettista o tutte e due devono essere italiani quindi è un premio che dà valore all'italianità anche se la prospettiva è quella di aprire al sistema mondo perché le aziende che concorrono sono aziende di grandissimo livello che spesso competono a livello internazionale quindi ambiscono a misurarsi con l'internazionalità del progetto solo che in concreto come adi noi abbiamo organizzato due edizioni di compasso d'oro international world che sono state tematiche una nel 2015 associata al food perché era l'anno dell'expo e due anni dopo nel 2017 un'edizione legata allo sport system in occasione dei mondiali perché evidentemente in termini rigorosi e seri e sempre nell'ottica dello sviluppo responsabile e sostenibile giudicare tutto il mondo implica un'organizzazione che deve essere adeguata questo è il senso il compasso d'oro quindi nel 2020 abbiamo conferito i premi della 26esima edizione in questo caso c'è stata un'edizione normalmente la celebrazione del compasso d'oro che al momento in cui vengono svelati i premi è molto partecipata nella tappeto rosso cioè tutti vogliono entrare è molto inclusiva quindi al di là del momento specifico in cui si conferiscono i premi poi ci sono un sacco di persone che vengono a visitare la mostra perché è un momento di grandissima festa nel 2020 insomma per effetto del covid abbiamo dovuto riorganizzare un po' la premiazione però l'abbiamo fatta a settembre in un momento in cui si è riusciti distanziati e contingentati a farla in presenza la prossima sarà nel 2022 quindi sulla base degli ad design index quindi del 2020 e del 2021 ciao ciao